A inizio la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2017-2018, il 92esimo dalla fondazione dell'Università per stranieri di Perugia. In questo tempo di attesa, chi, se non soprattutto noi, è chiamato a rispondere a questa domanda, evitando così di restare tagliati fuori dalle cose che non abbiamo saputo capire e dalle quali non abbiamo saputo rispondere? Dobbiamo dare alle vele un altro vento, sfruttare gli scenari di domani guardando a passato ci impone e ci dispone più agli oroscopi che alle profezie. Si ripete spesso che non abbiamo tempo da perdere, più esattamente, più drammaticamente il rischio è quello che si è il tempo a perdere noi. Signora Ministra, illustri ospiti, colleghi, studenti, nel segno di questo impegno e consapevole del privilegio di appartenere a questo teneo, dichiaro aperto l'anno accademico 2017-2018-92esimo dalla fondazione. Grazie. Grazie. Questo è vero, questo è vero. Arrivederci.